Allora, io adesso, noi adesso abbiamo fatto questo lavoro qui, cioè gli ho fatto dilupare le mani alla nostra compagna, gli ho fatto appoggiare bene la mano sul foglio, gli ho spiacciato la mano sul foglio, e nonostante questo, gli ho fatto, a dimostrazione del fatto che vi dicevo, per fare l'impronta, non è facile di restituire. Ok? Quindi appena appena il cortino di infetti si vede. Ok? Però questo appena appena, per noi è sufficiente per scansionarla, di chi dà la pennella. Ok? Quindi, ciascuno è lì, questo è il fatto, senza fare niente, senza neanche dare una mano di aiuto, ma come può sentire? In colpa? In colpa? In colpa? In colpa? In colpa? In colpa? Quattro? Quattro? Innoltre, ci siamo... Noi non siamo qui a fare, a dire la polizia, a dire se non dovete fare questo, non dovete fare l'altro. Noi siamo qui per trasmettermi un messaggio positivo nel senso creativo, che vi possa servire, che vi possa far stare bene e non avviate dei comportamenti che in qualche modo possano nuocere a rispettere o possono nuocere a rispettere. Prima e seconda non vanno? Bene, bravo ragazzi. Allora, sentiamo qual è la terza e l'ultima notizia. Grazie.